Buonasera amici telespettatori, eccoci tornati in diretta con Tempi Supplementari o meglio, partire in diretta con Tempi Supplementari, tornatilo diciamo quando torniamo alla pubblicità quando partiamo invece diciamo che partiamo con la trasmissione Tempi Supplementari siamo al numero 287, sono tanti e fra poco arriviamo a 300 metteremo qua i festoni, i fuochi d'artificio qua all'interno dello studio 300, porca mia Fra poco arriviamo a 300, siamo diventati vecchi Paolo Noi vent'anni fa eravamo un po' eravamo già senza capelli lo stesso però il nostro calcio lo seguiamo alla grande e anzi secondo me con gli anni lo seguiamo sempre di più abbiamo la passione, sabato arriviamo a Bedizzole per Bedizzole e Darfo fra poco torneremo ci fa piacere tanti anche da Bedizzole che guardano la nostra trasmissione ovviamente fanno piacere anche i complimenti se arrivano e come i messaggi che chiediamo arrivano in studio ringraziamo subito dall'inizio anche i nostri sponsor non c'è l'ospite in studio ciao Paolo, ciao Stefano ciao, ciao, buonasera noi siamo la squadra non c'è l'ospite questa sera ma avremo un collegamento io lo chiamo collegamento Zoom adesso c'è la nuova tecnologia insomma lo avremo un collegamento da casa si tratta del direttore sportivo dell'Accademia Val Vrembana Kamal che poi andremo a sentire parleremo di prima categoria con lui di questa prima categoria di questa grande sorpresa se vogliamo che va l'Accademia Val Vrembana anche se per me è un allenatore importante e giocatori importanti è una bella società parleremo con tanti servizi come al solito dalla seconda alla eccellenza tanta roba di eccellenza come tanta roba di prima e come di consueto ci conoscete grazie al messaggio che è già arrivato dal super tifoso del Torre dei Doveri questa volta pareggiato lo 0-0 ma ci sono stati un po' di pareggi per quanto riguarda la promozione io partirei con i temi della giornata poi Felice, già che mi ricordo perché non mi ricordo mai abbiamo la classifica dei migliori portieri quella con Bergamo Sport eccetera eccetera gli diamo così un'occhiata veloce ma i temi della giornata di quest'oggi sono questi partiamo ovviamente dall'Eccellenza Girone B poi andremo con l'Eccellenza Girone C e andremo a vedere le altre categorie nel Girone B giornata di sorprese perché le prime tre della classe o meglio anche la quarta eccetera lì davanti non hanno fatto risultati addirittura Leon con un pareggio casalingo ha guadagnato punti sulle avversarie di elusione dunque in evetta eccellenza Girone C ospitaletto bloccato valanga vertovese Stefano era invece a seguire la vertovese ieri capatutto al cazzago bornato e colpaccio Casazza perché Casazza era un momento così Carpenedolo due squadre ha vinto il Casazza una rete a zero colpaccio in promozione in promozione Girone C vince solo la Colognese sorpresa dal me cade l'Albino Gandino colpo Gavarnese contro loro asseriate gli spampati vince la Gavarnese si toglie un po' da quella grossa difficoltà che era messa la squadra di Foresti prima categoria Girone a lungo pianico perché l'Accademia proprio pareggia ieri pareggiando al 94 era addirittura essendo raggiunta se non sbaglio nel finale la lunga pianico che ha vinto con la Torre Gandinese Villongo vittorie pesanti riscatto a Sovere perché dopo la sconfitta di Pianca Muno ha vinto fuori casa questi sono poi i temi la seconda categoria partiamo con quella la seconda categoria dico fargli si mettere subito Girone B andiamo a vedere i risultati Stefano Girone C non B perché sì Girone C l'anno scorso era Girone B quello con le seriane quest'anno invece Girone C sì poi anche in un servizio lasciami dire scusa lo dirò nel servizio del Sovere che io continuo a chiamare il portiere Zambaiti continuo a chiamarlo Paganessi mi scuso col papà mi scuso anche col giocatore soprattutto che a me piace come portiere ma non so perché a me viene Paganessi confundere i gironi è meno grave dovrei bere meno calici forse ma io non ne bevo va bene non è nemmeno quella l'aspirazione allora sì è che non è il problema vai Stefano no dicevo che tante sorprese in questo girone ma devo dire che tante sorprese le abbiamo viste in quasi tutti i campionati in questo avvio di ritorno come spesso succede dopo la sosta sicuramente le squadre che hanno andato spesso sono andate via in carrozza poi incontrano qualche difficoltà di quello che sta succedendo in questo girone le prime di fatto hanno steccato tutte la sconfitta più clamorosa quella dell'Albano che dopo aver perso settimana scorsa a Casnigo perde in casa con Sarnico una squadra che all'andata in 17 partite aveva perso una sola volta di fatto è stata fermata due volte su due in questo gioco di ritorno buon per l'Albano e non con squadre e no no esatto con due squadre in lotta per non retrocedere il Casnigo è in zona play out e il Sarnico è appena fuori buon per l'Albano che dietro non approfittano perché te scorre stecca stecca clamorosamente anche Rovetto perché 4-1 diciamo che sul giornale veniva dato che la scuola ha vinto 3-1 invece ha perso 3-1 ha perso 3-1 quindi di fatto non è la stessa cosa diciamo no qualcosina cambia anche per la Nembrese perché sta risalendo la grande eh sì chiaramente quelle davanti rallentano quelle dietro vincono Nembrese, Albino e anche il Città di Clusone insieme al Carobbia hanno corso in avanti adesso devo dire che fino all'Alzanese sono tutte in lotta per i play-off perché l'Alzanese che è dalla parte estra classifica è almeno 6 del secondo posto ecco qua sta rientrando Nembrese che secondo me è una squadra comunque quotata per quella posizione lì l'anno scorso ha vinto Coppa il campionato ha vinto stravinto la grande tutto poi è la partita ambiziosa quest'anno invece quella che continua a sorprendere l'ospite era qua con noi lunedì scorso la squadra di Marco Chiodi una squadra tosta una squadra che adesso sta arrivando lì conosciamo le squadre di Marco che viaggiano a mille all'ora col preparatore Figgini beh sì dopo alcune difficoltà iniziali come ha messo anche il misto la settimana scorsa la squadra ha cambiato passo adesso va forte anche a livello atletico d'altra parte sappiamo che sono abituati a lavorare tanto in settimana e ovviamente le risposte stanno arrivando chiaro che alcuni giocatori di livello per la categoria li hanno e uno di questi è Stefani che è stato anche ieri sì sì poi sono arrivati anche i giocatori non so Pietro Poli ci vogliono sempre i Camuni insomma per far vincere le seriane sì sì è l'unico scorsi c'è venuto Pietro Poli comunque arriva da una squadra Camuni Pietro Poli però di Premolo però ha respirato un po' d'aria giù era diventato di Pianico ormai ah non lo sapevo beh lì facciamo gli auguri veramente sono contenti di vedere il Cusone anche la squadra di Chiacoli ormai si è capito che a me piace tantissimo come allenatore e dunque di vederlo lì altri due messaggi sono arrivati uno che chiama complimenti tra la missione l'ospite chi è Zecchini quello che giocava nel Milan no l'ospite è Kamal Medagri è il direttore sportivo che avremo poi avremo poi con noi collegato e invece l'altro messaggio Val Calepio gran gioco 90 minuti nell'area delle avversarie zero gol senza un bomber è stata dura arrivato questo 0-0 Val Calepio comunque avanti senza un bomber ma giocavi con l'ultima in classifica cioè non posso pensare che l'assenza di un bomber per quanto importante possa giustificare un risultato con quelle partite che magari ha avuto qualche defezione del Val Calepio in fase offensiva è anche vero che il Val Calepio viene tra pareggi consecutivi però stesso discorso fatto per Albano quelli dietro non ne approfittano ne approfittano una volta la Bino Cantino oltre a Cologna si alternano ma alla fine restano sempre 8-9 punti dalla formazione del Val Calepio per quanto riguarda la promozione prima della promozione andiamo a vederci la seconda categoria girone D perché se il C era questo andiamo a vedere il girone D dove ci sono tre Bergamasche insieme alle squadre brecciane il risultatone arriva da Brusa Porto adesso vedremo anche il gol perché era una partita di altissima classifica fra le due squadre secondo me magari poi non vinceranno una nell'altra campionato io invece io lauro però sono due squadre che lottano per vincere questo campionato Lesine che incredibilmente Paolo la settimana prima veniva da una sconfitta allucinante un 4-1 che è diventato un 4-5 e quindi credo che in settimana avessero schiumato rabbia tutti quanti non ho visto la partita non ho letto molto però immagino che la posta in palio fosse importante e contro Lesine incavolato per domenica avrebbero probabilmente fatto fatica tutte le più grandi squadre del girone l'articolo del Ego ha riportato supremazia della squadra Camuna quindi penso che abbia meritato la vittoria come fai a subire 5 gol contro una palernese che la vediamo lì in lotta per i play-out la settimana prima e poi vai su un campo come quello di Bruso Porto già fuori casa in casa loro è tosta e fai la partita da prima della classe perché lì per vincere devi fare la partita questa Arnaldo è la dimostrazione che domenica è stata episodica hai avuto quell'attimo di black-out l'hai pagato a carissimo prezzo però sai Paolo per vincere i campionati bisogna evitare quelle domeniche lì perché quando sei lì 3 a 34 e 1 a 33 questo è il gol da parte delle Lesine che praticamente ha dato la vittoria grazie a speciali delle Lesine che ci siano sempre i gol delle Lesine a partita in casa fuori quando sei di 3 a 34 in cima alla classifica 1 a dietro a 33 probabilmente sarà uno di queste 4 anzi sarà uno di queste 4 a vincere il campionato devi fare meno passi falsi possibili dopo è vero che le riscatti nello sconto diretto però è un grandissimo riscatto ti dico che psicologicamente se avessi vinto domenica facilmente 4-1 magari ieri perdevi perché comunque non avresti messo quella rabbia e quella voglia di fare punti che invece la situazione ti ha determinato può capitare anche magari ti senti forte ti senti dopo certe partite va bene tanto va bene probabilmente non scendi in campo con l'atteggiamento giusto perché ieri se vinci 1-0 vuol dire che sei scendendo in campo con l'atteggiamento giusto poi magari ti è andata anche bene una partita essere favorito allora io non credo che ci fosse una favorita in un incontro come questo però credo che il Busaporto avesse due risultati su tre a disposizione anche il pareggio ti avrebbe consentito di tenere a bada l'avversario e probabilmente Lesine ci ha messo in campo quella rabbia che non ci ha messo domenica scorsa quindi sono fiducioso sul proseguo del campionato delle Lesine ecco la bellezza di questo torneo se vogliamo per noi che lo guardiamo da fuori ovviamente è che non c'è una là in cima come tanti altri gironi che avrà praticamente chiuso il campionato per quanto riguarda la vittoria finale i tre gironi che seguiamo e forse è l'unico che è ancora davvero aperto qua sino alla fine cari miei non dico che il Montello l'unica certezza è il Bienno ultimissimo per motivi che sappiamo non c'è l'altra squadra che si è ritirata dal campionato sarebbero insieme sarebbero sicuramente insieme però è vero la davanti è un campionato meraviglioso per chi lo sta seguendo è veramente aperto a qualunque risultato allora adesso andiamo a vedere il campionato di promozione mentre io leggo un messaggio ancora non ti sono mancato lo stadio ah sì buon vinci infatti vedo che mi mancavano mi mancavano anche i messaggi del vinci dello zio per quanto riguarda il pianico ma anche ieri non c'era non mi sembra davvero visto il buon vinci però fin quando vince il pianico perde colpi anche allo zio allo zio guai no adesso con la squadra in fuga mi scrive perché sta perdendo colpi il buon zio comunque apriamo il campionato e promozione andiamo a vederci i risultati e poi ci vedremo anche i golle e alcune immagini di due partite Lazzano non i gol perché è finita 0-0 mette la Cavarnese ma tutto sediato 1-0 questi sono i risultati abbiamo detto cade l'Albino Gandino Stefano sì come abbiamo detto prima tante sorprese il Valcaleppio pareggia con l'ultima in classifica è il terzo pareggio di fila però appunto l'Albino Gandino non ne approfitta l'Almè sta sorprendendo partito con candidato in estate da tutti con tanti giovani sta facendo un ottimo campionato a metà classifica ben oltre le aspettative e si è confermato che ieri per l'Albino Gandino invece è uno stop pesante perché ovviamente vede scappare ancora di più il Valcaleppio la Colognese invece nonostante lei sia davvero senza i due attaccanti perché Alloni ha finito la stagione e Longaretti è stirato ha vinto ancora e adesso è lei è lei seconda penso che sta facendo davvero un gran campionato considerato il fatto che ha alle spalle tante squadre partite con ambizioni maggiori più 7 vediamo il Valcaleppio non entra nel messaggio dunque vi faccio in bocca al lupo allo zio perché sta guarendo adesso da una malattia un po' le mani stagione probabilmente quest'anno è un po' una malattia che ha colpito tante persone ci comincia a scrivere vuol dire che tutto sta andando bene e questa è la cosa importante poi ci vediamo allo stadio intanto sta giocando anche fuori casa sai che lui è l'uomo dell'Istri dunque quando tornerà a giocare in casa ne avrà ancora uno fuori casa al pianico due parole sulla Fiorente le vogliamo dire guardi la classifica Fiorente 20 anzi Feli se me la lasci da apprezzare il fatto che la Fiorente ha 20 ma a tre punti sotto c'è la retrocessione da apprezzare non lo so apprezzare nel senso guardare esattamente agli stessi punti della Gavarnese e in questo momento è a più uno dalla zona play out che già la Gavarnese non sta facendo bene esatto ma perdere Pelligris è stato comunque un ulteriore danno a questa formazione uno che aveva fatto due gol ho capito però è sempre un giocatore che ha delle grandi potenzialità non so quanto possa essere utile all'Albino Gandino e qui magari apro degli scenari che a qualcuno non piaceranno però sicuramente la Fiorente ha perso a prescindere un giocatore che poteva fare la differenza in certe situazioni in certi momenti Pelligris insomma un uomo da 360 gol nella sua carriera lo sappiamo è utile se tu butti i palloni in mezzo all'area di rigore allora lui è devastante perché non è uno che viene a prendersi lì a centro capo i palloni giustamente anche perché i suoi anni l'anno scorso non l'ha mai fatto ma va bene così questa invece è la Gavarnese che in maglia bianca contro la Serie A che ha avuto subito un'occasione poi la dice la Gavarnese questo è il gol se non sbaglio la Gavarnese ha cambiato passo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 nell'ultima quattro partite ai 10 punti tra vittori e un pari e ha cambiato radicalmente che la sua classifica è dall'ultimo posto adesso addirittura fuori dalla zona play-out il Serie A invece continua ad essere altalenante domenica gran vittoria ieri sconfitta non riesce ad avere contuità dei risultati e resta lì in pelagato in zona play-out e dici bene alterna molto i risultati la formazione allenata dallo Spampa mentre la Gavarnese diciamo che è andata bene a tutti e due dal saluto di Masinari a metà anno Masinari sta segnando a Gandino e la Gavarnese ha ricominciato invece a fare risultati se vogliamo il mercato è andata bene a tutte e due le persone sia lui al giocatore sia la Gavarnese e qua invece siamo Zingoni azzano un azzano che lui è vero a Zingoni potevi accettare il pareggio di 0-0 però su questa pareggita che ti tiene comunque in zona play-out sì fatica a fare il bottino pieno è anche vero che però dopo l'inizio complicato adesso la squadra vediamo spesso e volentieri le loro immagini le prestazioni le fa se la gioca ieri comunque l'avversario ha tutto rispetto perché lo Zingonia è una tra le squadre più apprezzate del girone ed è in piena zona play-off esatto azzano che lo vediamo in classica maglia del Lecce se vogliamo così chiamarla è bianca la formazione dello Zingonia Zingonia che lo vediamo 27 punti anche lui è un attimino staccato insieme al Torre dei Rovali è un attimino staccato da quella Albino Gandino e la Colognese che dimostrano di avere qualcosa in più per seguire il Valcaleppio poi non so se basterà perché è vero che 7 punti sono tanti al Valcaleppio questo non è fuori gioco però esatto è vero che il Valcaleppio ha nominato il Gino di Andata sta segnando altri milioni di punti 7 sono tanti i punti mi viene anche da pensare che se quando tu fai tre pareggi di fila mantieni comunque il vantaggio era 9 praticamente più 9 è diventato più 7 è sicuramente un bel segnale sinceramente quelle dietro non le vedo fino a questo momento in grado di inseguirli lo ripeto quella che sta facendo meglio è la Colognese che però ha due assenze pesanti leggendo anche il messaggio praticamente fa capire che il Valcaleppio probabilmente è più importante adesso recuperare l'attaccante che poi anche nei scontri diretti è dimostrato che l'andata che il Valcaleppio hanno da Lola Valle Guienne hanno giocatori importanti esatto e quella è la situazione ci fermiamo break pubblicitario quando rientriamo andiamo a sentire proprio il direttore sportivo dell'Accademia Valbrembana Kamal e apriamo la pagina di prima categoria Gironee rientriamo in diretta con tempi supplementari apriamo il capitolo come ho detto prima categoria Gironee prima di verirci tutti i servizi avremo servizi di Piancamuno Gandinese della Torre Pianico di Sovere o meglio Brembillese Sovere con tutte le vittorie esterne guarda caso di queste di queste tre servizi che avremo ma soprattutto in questo primo blocco adesso andiamo a salutare il direttore sportivo dell'Accademia Valbrembana Kamal Medagri adesso chiedo a lui prima di tutto come cognome se va bene l'accento Medagri o Medagri adesso l'abbiamo con noi ricordiamo che l'anno scorso ciao innanzitutto buona serata buonasera a tutti Medagri cognome esatto io aspetto perché chiedo l'audio di ritorno in studio perché ti abbiamo visto muovere ma non ti abbiamo sentito adesso perfezioniamo l'audio in studio l'abbiamo? sì? ok Kamal ci sei? ci sono ci sono perfetto accento sulla i o no? come cognome? accento Medagri Medagri allora vado bene così l'ho detta giusta dai perché io già sai prima facevo una battuta che cambiavo il nome già con l'italiano insomma c'è il cambio il nome al portiere del sovra e questo mi dispiace ovviamente qua è la vera solo si tratta la gente Kamal allora poi ti chiamo Kamal allora ci siamo visti l'anno scorso a Esine ci siamo conosciuti e mi piace avere in trasmissione un po' uscire da anche la nostra zona difficile portarvi ovviamente fino a Cruzone ma adesso con questa tecnologia nuova si può tranquillamente andare a far parte della nostra trasmissione avervi ospite proprio nel collegamento innanzitutto chiedo a Feli di mandarmi i risultati della giornata di ieri che andiamo un po' a commentare insieme a te Kamal in studio c'è qua Paolo e Stefano ovviamente che conducono con me la trasmissione in tempi supplementari e andiamo a commentare i risultati di ieri in questa prima categoria Girone e con la sorpresa Pianico se vogliamo che l'anno scorso retrocesso quest'anno è prima e voi che siete una neopromossa che dà molto fastidio parliamo prima della partita di ieri o prima dei risultati Kamal? vediamo se lui ci sente o meno studio noi non sentiamo nulla e gli dico a Felix perché per avere collegamento non abbiamo un ritorno se lui ci sta sentendo o meno questi i risultati Kamal ci sei? io vi sento mi sento bene adesso ti sentiamo anche noi te allora andiamo a commentare i risultati di ieri dai cosa ti ha sorpreso di più e di meno se vogliamo allora quello che che mi lascia l'amaro in bocca è sicuramente il nostro risultato perché pareggiare al novantottesimo gira sempre le scatole poi indubbiamente la sconfitta dello Zogno che non che la pensavo molto più avanti in classifica in questo punto della situazione e Brembate la sconfitta da Brembate la quarta sconfitta da Brembate lascia lascia molto molto sorpresi ecco dici bene allora se la Zognese tutto l'anno che bene o male non ha mai dato l'impressione di restare lì Brembate ha fatto il giorno di andata la grande e adesso sta un po' segnando il passo da questo inizio di torno ma la Zognese non ha mai dato l'impressione anche se era partita come grande favorita per la Zognese non si erano nascosti neanche loro erano una delle grandi favorite però ci sta sul campo del Villongo quella del Brembate è una sorpresa piuttosto pesante di questa formazione che trova a far fatica a segnare adesso nonostante abbia un bomber come sana dopo si è perso all'Effe su un campionato difficile in un campionato molto difficile no Kamal? Sì sì è difficilissimo non ci sono partite partite facili indubbiamente con nessuno né con l'ultima né con la prima e quindi ogni partita è a sé sono tutte aperte come partite ecco l'Accademia Isola quella che ieri ha pareggiato il 98esimo è stata eravata in vantaggio una squadra dell'Accademia Isola che non segna tanti gol ma ne subisce anche pochi una squadra molto giovane io l'avevo vista col pianico aveva bloccato anche il pianico nonostante mancavano anche diversi giocatori contro la formazione del pianico è una squadra l'Accademia Isola molto simpatico il loro mister che entra anche nei quarti di finale di Coppa dunque tutto sommato i valori li ha è una signora squadra è una squadra quadrata in tutti i reparti non ha giocatori che sopra la media ma tutti fanno il loro è una squadra molto quadrata subisce poco non crea tantissimo ma nel complesso è una signora squadra allora io ve l'ho detto Camal dopo ti lascio anche Stefano e Paolo se hanno delle domande io ve l'ho detto parlando anche qua con le squadre di qua ovvio noi siamo vicini a Pianico e sopra ho detto attenzione nel ritorno all'Accademia Valbrembana perché ha fatto molto bene a me le squadre belle quadrate che dietro subiscono pochi gol e poi mi era piaciuta una squadra tosta quella dell'Accademia Valbrembana nonostante sia una neopromossa ma questo non vuole di niente anche la gandinese neopromossa iranica sta facendo bene e secondo me avete anche inserito collegimi se sbaglio un paio di giocatori importanti adesso nel mercato giocatori che il vostro mister bravissimo Tarchini conosce bene abbiamo inserito quattro pedine importanti vuol dire che non ho lavorato bene d'estate no se sei arrivato secondo a fine andata erano quelli i giocatori inseriti dopo i quattro giocatori importanti sì no vero vero ci stiamo facendo bene grazie anche comunque ai ragazzi allo staff che lo reputo uno staff bravissimo quindi con tutti vado d'accordissimo con il presidente Monaci e tutti quanti però da neopromossa non mi aspettavo questi risultati quindi sono contentissimo di quello che stiamo facendo e stiamo volando sulle ali dell'entusiasmo tutti spero di restare il più alto possibile fino alla fine per te è raggiungibile il pianico? perché sai tanti dicono beh certo uno che guarda quei numeri impressionanti non ha mai perso 43 punti e questo è la è proprio così distante è impossibile quasi raggiungerlo già adesso che ne mancano 13 partite o invece è tutto aperto cioè nel senso l'academia pensa più pensate più a star secondi? perché come sapete voi ma noi pensiamo a settimana a settimana pensiamo al nostro a far bene è ovvio che il pianico secondo me è costruita per altri obiettivi rispetto ai nostri però noi ce la giochiamo ogni domenica con tutte viviamo di settimana in settimana mi arriva un messaggio nel frattempo grande DS ci vediamo l'anno prossimo non so di chi è vedo foto ma non so di chi è i complimenti si prendono e basta no nel senso e poi è uno che ha già affrontato quest'anno come dice vediamo l'anno prossimo o magari uno che è in promozione e aspetta l'academia a promozione la cacciata la mettiamo già lì subito a cavale gli facciamo già gli auguri cominciamo a salvarci no dai no non dili così a Stefano e Paolo se no ti diciamo subito che è sbagliato certo l'avevo promosso inizio del campionato magari potete pensare anche se per me voi sotto sotto sapete già le squadre che avete costruito e avete già un'idea del campionato come può andare dopo certo c'è la delusione l'anno scorso Pianico pensava grandi cose e retrocesso c'è sempre le sorprese la Fiorente in promozione sta dimostrando che pensava di essere uno squadrone e invece sta pagando dazio le sorprese sono sempre però bene o male un direttore conosce cosa ha costruito no Kamal sì sì indubbiamente indubbiamente diciamo io parto sempre con i fari con i fari spenti per poi cercare di far bene questa è la mia indole anche da quando ero giocatore quindi non dirò mai a agosto che voglio vincere il campionato ma poi quello che verrà verrà Tarchini per l'amore una piazza importante quella dell'Accademia c'è stato anche l'ospite che era qua con noi settimana scorsa a Chiodi era stato quando era ancora San Giovanni Bianco si chiamava San Giovanni Bianco la squadra e già lì diceva comunque la società è sempre rimasta un po' ambiziosa sempre la società che ci ha creduto è una società importante quella dell'Accademia Tarchini è un allenatore che ha fatto l'eccellenza ha fatto categorie importanti dunque è un valore aggiunto poi a me piace come mister indubbiamente saluto Chiodi che è stato il mio allenatore a San Giovanni ah e allora giocavi con Chiodi e facevi quattro corse con Chiodi facevi quattro quattro anche otto sì perché infatti stiamo dicendo che il Clusone va bene anche perché con lui ti alleni ti devi allenare allenatore vecchio stampo testa bassa a pedalare però ci vuole e invece con Tarchini con Tarchini bene mi trovo benissimo mi sta dando una mano come tutto il suo staff da Diego Genini a Michele Crotti e come ho detto prima precedente mi stanno dando una mano a inserirmi anche come direttore sportivo e stiamo facendo bene in senso abbiamo un bel feeling tutti quanti e ebbene così siamo lì Stefano sì complimenti perché dall'anno promosso essere al secondo posto in sicuro del pianico davanti a tante squadre molto protettate non è assolutamente un risultato scontato e i complimenti vanno fatti la mia domanda è in prospettiva qualora a maggio l'Accademia si giocasse in playoff li giocate per provare a salire oppure qualche freno può esserci ma indubbiamente se dovessimo farli con tutti gli scongiuri cercheremo di farlo farli sempre a testa alta e con la prospettiva di salire sappiamo bene che ci sono altre squadre attrezzate per per fare un altro tipo di campionato sì però il campionato bene o male adesso l'hai visto secondo me come hai detto è un campionato molto tirato abbiamo visto la classifica nella parte di qua dove siete voi a parte il pianico che è scappato via se vogliamo che è più in ove dunque una distanza importante poi arrivando giù anzi la Zognese è quasi di là arrivando all'Efe sono tutte squadre molto importanti senza nulla a togliere al mozzo San Paolo che stanno dando fastidio un po' a tutte dunque lì le conosci tutte le formazioni sono molto equilibrate ecco sono squadre molto equilibrate ha spaccato un po' il pianico che forse per me oltre alla sua forza gli ha anche girato un po' tutto bene nel corso del campionato e ha preso questo questo distacco netto poi tutte le altre sono toste sono partite toste vediamo se l'abbiamo ancora Camar se ci sente e adesso con noi Stefano sì penso che mentre lo vediamo un po' frizzato mi sa che il collegamento è tornato è tornato sì concordo con la tua disamina Arnaldo e con quello che ha letto giustamente prima il direttore poi rischi anche a Piancamuro rischi anche con la torre ieri il pianico la torre ha preso due traverse però la cosa che secondo me sta dimostrando fino a questo momento l'Accademia è la continuità sì rispetto ad altre squadre ripeto anche più quotate il Sovere la Zognese ad esempio l'Accademia è molto molto continua ha sbagliato pochissimo all'inizio anno e secondo me è quello il segreto che l'ha portato a fin lì Camar ecco voi hai detto prima abbiamo asserito quattro giocatori importanti io ho visto la squadra nell'andata una squadra centrocampo e difesa secondo me c'era poco da toccare forse però magari avete toccato tutto lì bisognava trovare quei gol che ti permettono sullo 0-0 di portare a casa le partite trovare quegli attaccanti ovviamente per fare per fare il salto in più in questa categoria è stato lì che siete intervenuti? diciamo che siamo intervenuti con un difensore due difensori e due centrocampisti davanti purtroppo non sono riuscito a trovare nulla esatto a contrario quello che ho detto io esatto nonostante adesso è arrivato un ragazzo scuola San Pellegrino a darci una mano un giovane del 2004 speriamo che anche con lui riusciamo a trovare quei gol che ci mancano è anche vero che è stato un mercato che tutti cercavano gli attaccanti perché a sovra poi ci sono riusciti a portare guardi pianico tutto sommato vabbè era apposto tutte le squadre erano in giro cercare attaccanti quello che fa gol è quello che sposta l'equilibrio e lo cercano tutti però difficile andare a prenderlo perché dove fa bene non te lo danno o lo tengono loro e andare a prendere uno per andare a prenderlo giustamente un direttore sportivo dice vabbè allora stiamo quelli che siamo Stefano ti ha detto se dovete fare i playoff anche perché nel senso il playoff già voi l'anno scorso portato bene salite in categoria poi sei uno che ha giocato a pallone conosci bene eccetera eccetera secondo me chiedo anche a te il salto dalla prima alla promozione non è così pesante come promozione eccellenza si può fare aggiustando qualcosa nell'organico ma si può fare l'ha dimostrato Falco eccetera altre formazioni che non hanno sentito del salto di categoria quello si può fare non spaventa più di tanto come può spaventare il salto in eccellenza invece diciamo che sicuramente per fare una promozione c'è da lavorare ancora parecchio ci proveremo ci proveremo non lo nascondo se dovessimo arrivare lì a fin anno nei playoff ci proveremo fino alla fine l'ha detto due volte quindi è convinto ma fa bene a provarci anche perché tante volte sentiamo anche in categorie più importanti eccetera se vuoi alzare un po' la sticella nel senso se vuoi anche tenere dritto la tua squadra è quella di dirgli sì ci proviamo chiaro chiaro di dargli stimoli a compaglia vari quello che ho chiesto prima esatto quello importante io posso dire anche che fra poco ci vedremo non so com'è la piazza lì nella tua squadra l'academia valbrembana perché fra poco penso che arriverà il pianico fuori casa ci sarà questo scontro diretto fra poco ci farà ancora qualche giornata ma lì ci vedremo su questo campo perché di solito le trasferte vengo poi io a farle a Dio piacendo sempre ovviamente però com'è la piazza dell'accademia? ma indubbiamente è una piazza tranquilla che l'ambiente è molto sereno e tranquillo ma molto caldo nel senso che i risultati se li aspettano tutti ma senza pressione e delle dietro cosa diciamo delle squadre poi ti salutiamo delle squadre che abbiamo dietro in classifica perché ho detto ho visto ieri la torre pianico 3 a 1 per il pianico la capolista ha vinto forse perché ha la maggiore esperienza della capolista ha meritato però due traverse nella sua offerta Biancamuno che ha battuto il sovere poi ha dato tanto fastidio alla gandinese ieri insomma queste squadre lì in fondo la brembilese che ha dato fastidio al sovere paladina che sta risalendo anche lì dietro non è come l'anno scorso dove Dalmine e altre squadre già a quest'ora praticamente le ciorcesse lì dietro sarà una battaglia anche lì dietro Vero conosco molte persone a paladina a brembilla piancomuno non conosco nessuno ma sicuramente si tireranno su me lo auguro per loro perché se lo meritano di restare in categoria Posso chiudere con una battuta io ti vedo ti vedo ancora in grande forma è meglio fare direttore sportivo o stare sul campo? ovviamente stare sul campo esatto perché ti vedo ancora in grande forma forse era meglio se hanno qualche problema magari si si autoschiera esatto si autoschiera informazione il ginocchio permettendo grazie Camalti auguro buona serata grazie di essere stato con noi grazie a voi grazie e grazie ovviamente buca al lupo all'Accademia Valbrembana noi adesso andiamo in pubblicità e lo salutiamo e quando rientriamo lo stiamo ancora in prima categoria Gironee perché poi magari Camalti segue dal monitor e andiamo a vedere i tre servizi che abbiamo detto delle tre vittorie esterne in prima categoria per l'Europa break pubblicitario stiamo parlando di prima categoria Gironee adesso andiamo a rivedere i risultati che commentiamo qua noi in studio perché fino a ora abbiamo sentito il commento da parte di Camal Medagli direttore sportivo dell'Accademia Valbrembana adesso andiamo un po' commentare con Stefano con Paolo commentare prima categoria nel frattempo lanceremo anche i servizi prima di passare poi alle due categorie di eccellenza questi sono stati i risultati conferma ancora una volta magari vado da Paolo il Villongo che batte la Zognese 3 a 1 si conferma questo Villongo magari non stiamo forse dando troppo peso a questo Villongo ma attenzione perché è dalla quinta giornata tra le formazioni che sono là in alta classifica è una squadra che ha sorpreso indubbiamente ci sono due neopromosse che sono Gandinese e Accademia Valbrembana che secondo me stanno facendo un miracolo sportivo il Villongo è lì praticamente alle spalle della Gandinese non riceve mai i riflettori del palcoscenico perché siamo sempre lì a tessere le lodi di Pianico e di altre squadre però indubbiamente stanno facendo benissimo e probabilmente anche in virtù dell'esperienza che hanno potrebbero puntare al secondo posto magari superando anche le altre due le altre due le promosse sì anche perché è un conto che sei una squadra che va bene un momento 4-5 partite allora un momento che ti va bene se è una bella squadra non è il caso del Villongo però questa dalla quinta giornata cambio mister ha fatto il conto il Pianico possiamo dire tranquillamente che ha cominciato a giocare dalla sesta perché nelle prime 5 ha fatto 0 punti un punto e il Pianico ne aveva 15 no no 5 sconfitte le prime 5 non ha fatto neanche un punto era 0 insieme al Piancamuno poi ha fatto un campionato come il Pianico esatto perché ha retto il ritmo e sono tante giornate perché sono 17 vuol dire 12 giornate ha fatto il ritmo impressionante i gol arrivano eccetera eccetera poi ovviamente è più forte magari anche quando gioca in casa dunque questa è un po' la squadra da tenere d'occhio anche se sono tante lì come vi ho detto prima non l'abbiamo detto ma alla fine la giornata di ieri ha avuto ancora il Pianico perché ha vinto e ha guadagnato altri due punti e è nato più 9 quindi la giornata di ieri è stata ancora favorevole al Pianico perché manca la giornata in meno alla fine è a due punti in più di vantaggio sì anche perché il Pianico secondo me secondo voi fa bene questo lo dico io magari al Pianico non lo dicono a guardare quando guardi il risultato guardi il risultato dell'Accademia Valbrembana le altre probabilmente beh la terza è a 13 punti Arnaldo la gandinese ha più di 4 partite di stacco è praticamente impossibile che rientri a meno che il Pianico se ti può raggiungere ti può raggiungere l'Accademia Valbrembana insomma tutto sommato le altre sì secondo me non lo può raggiungere nessuno e lo dico da novembre ormai però è chiaro che se eventualmente rallentasse il Pianico comunque l'unica che può rientrare è l'Accademia ripeto la gandinese ha 13 punti il Pianico dovrebbe perdere 4 partite per farla rientrare la gandinese vincere tutte sì come ho detto io nel servizio è vero Paolo che i numeri sono importanti cioè miglior attacco miglior difesa un gioco subiti 43 punti quella che ha fatto più punti nelle partite giocate nel CRL e unica imbattuta insieme all'ospitaletto nei gironi CRL cioè dall'eccellenza la prima dunque sono numeri impressionanti se vuoi aggiungersi qualcosa hanno i numeri possiamo dire che ufficialmente sono anche salvi quindi sono anche sereni sono anche belli sereni tranquilli che hanno raggiunto l'obiettivo minimo che l'anno scorso non erano riusciti a raggiungere no è una squadra che come dici nei numeri al di là del gioco io non ho mai avuto il piacere di vedere il Pianico giocare però i numeri sono numeri da squadra formidabile ed è difficile pensare che questi numeri possono venire meno e che contemporaneamente qualcuno possa attraversirsi da Pianico e fare i numeri forse il Villongo può essere la squadra che ha le caratteristiche per insidiare il primo posto ma la vedo molto molto difficile anche perché anche perché in intervista questa sera avremo speziari poi avremo Marchetti per la torre infatti ai speziari ho chiesto ok voi magari il Pianico guarda hai sempre un po' la paura di guardare dietro eccetera ma tu pensa a quelle dietro che vedono che non stecchi mai davanti ti passa anche un po' la voglia di dire ok faccio il mio campionato e quella là lasciamola andare un po' come l'ospitaletto nei Cellezza sì ma anche perché abbiamo parlato fino adesso alla fine le squadre che inseguono sono tutte outsider arrivate lì come sorprese le vere antagoniste annunciate in estate la zonese il paladina il sovere non ci sono e quindi una vera rivale non c'è i servizi cominciamo proprio dalla torre Pianico avremo le interviste coperte dalle immagini di speziari capitano della formazione del Pianico e Marchetti allenatore della torre andiamo a verci di servizio si vince 3 a 1 si è fatto quello si deve fare ma non è stata così semplice come magari la classifica poteva far sembrare no noi abbiamo preparato la partita come andava preparata in settimana e oggi abbiamo dimostrato comunque di essere superiori ma non altezzosi siamo andati in vantaggio subito siamo stati ripresi ma dopo 3 secondi siamo andati ancora in vantaggio noi e poi a partire non dico andate in discesa perché è stata molto dura la squadra avversaria ultima però la torre ha dimostrato darci molto filo da torcere di più magari però stiamo facendo un gran campionato non dobbiamo passare la testa perché non è ancora finita fin quando la matematica ci darà ragione però noi dobbiamo correre correre e guadagnarci ogni punto ogni giornata sul campo come stiamo facendo perché i ragazzi non posso dirgli niente sono fantastici chiedigli a loro nel senso noi sappiamo cosa dobbiamo fare e non possiamo permetterci di mollare niente non un metro non un pallone e dobbiamo continuare così dopo sta a loro se vogliono mollare che mollino però noi non lo faremo mai sì era importante farlo il pareggio di Leff è un buon pareggio perché è una squadra secondo me molto tosta soprattutto sul loro campo e oggi era importante dare un significato a quel punto là perché se oggi non portavi a casa i tre punti diventava un problema quel pareggio quindi noi oggi secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare e quattro punti in due partite è un buon inizio ma l'andata ne abbiamo fatti sei quindi due in meno quindi dobbiamo continuare così niente niente diverso però anzi aumentare un po' alzare il più la sticella che non guasta mai sì quello è vero perché gli scontri diretti per noi arriveranno da metà classifica in su però non è scontato vista la partita di oggi non è niente scontato domenica andiamo a Pianca Munica per noi un derby ovviamente anche per loro e loro non hanno niente da perdere quindi sarà una gran partita giochiamo sul loro campo su un sintetico che non è facile hanno dimostrato anche oggi comunque se non ho capito male hanno perso ma non di senza goleare quindi è un'ottima squadra quindi noi dobbiamo prepararla al meglio e andare in campo a 2.000 euro il tuo squadro per me non ha sfigurato neanche oggi non ha sfigurato hai ragione la squadra e i ragazzi non possiamo dire nulla hanno fatto una grande prestazione siamo stati in partita abbiamo pareggiato abbiamo preso due traverse una anche sul 2-1 abbastanza clamorosa abbiamo fatto una grande prestazione dopo il 3-1 la partita purtroppo è andata ancora più in salita però noi dobbiamo guardare per il nostro campionato per il nostro cammino alla prestazione che la squadra sta facendo nelle ultime 6 o 7 domeniche le prestazioni ci sono sempre state e noi dobbiamo andare avanti e lavorare su quello sulla prestazione che poi sono sicuro i risultati arriveranno assolutamente assolutamente prestazione e l'obiettivo sempre dei tre punti a partire da domenica prossima andiamo a Brembate andiamo lì per i tre punti e ripartiamo lì da mercoledì in settimana a lavorare andiamo avanti come stiamo facendo perché ripeto la squadra si sta allenando bene il gruppo c'è e si è visto in campo anche oggi credo noi pensiamo sempre settimana in settimana non è una frase retorica ma è la verità noi puntiamo a questa settimana di nuovo per i tre punti andiamo in campo solo per i tre punti e non pensiamo fra due settimane abbiamo detto allora Speziari ieri uno dei migliori Poiati ovviamente con la doppietta è stato il man of the match ma Speziari tanta roba centrocampo è quasi un regista che ti viene a fare il mediano per la formazione pianico e poi Marchetti allenatore della torre è sempre lì anche loro non devono mai mollare l'altro campionato comincerà per loro quando non affronteranno più pianico e prima classe negli scontri diretti per evitare quell'ultimo posto che dà la retrocessione andiamo a vedere invece la vittoria del Sovere anche lì è stata una partita tosta e risolta dall'uomo importante Guardi che è entrato dalla panchina ha fatto il 2-1 al 94 ma vediamo com'è dopo la sconfitta nel DRB di Pianca Mui nel Sovere si riscatta subito su un campo difficile come quello di Vrembilla vincendo il 94 con un gol di rapina da parte del Bomber Guardi partita tirata dove gli uomini di Cataneo nel primo tempo si rendono più pericolosi rispetto ai locari e Carrara l'uomo più pericoloso dei soveresi ne è perversando sulla fassa destra mentre gli uomini di Locatelli rispondono con ripartenze che tengono sveglio Paganessi numero 1 Sovere si rientra negli spogliatoi sullo 0-1 gol messo a segno manco a dirlo da parte di Carrara nella ripresa la Vrembillese scende in campo decisa a cercare il pareggio e si rende pericolosa soprattutto su palle inattive pareggio che arriva comunque al sessantesimo grazie a Carminati la partita si apre con le due formazioni che non ci stanno al pareggio e entrambe vogliono provare a vincerla le emozioni fioccano su ogni fronte di gioco e sicuramente il pubblico presente non può annoiarsi il campo diventato ormai lento e scivoloso ci mette del suo mettendo in difficoltà e in precario equilibrio i 22 giocatori in campo le occasioni più grosse comunque del secondo tempo sono la parata di Paganessi numero 1 del Sovere che compie un ottimo intervento tenendo sull'1-1 la formazione di Cattaneo e poi della parte opposta è il numero 9 Brandini della formazione del Sovere che ha l'occasione colossale per riportare in vantaggio la formazione di Cattaneo ma spreca incredibilmente davanti alla porta non è da lui da un giocatore tecnico come può essere Brandini ma adesso andiamo a vedere i tre gol che hanno deciso la partita dando i tre punti alla formazione del Sovere che ora scala la classifica e arriva ancora prepotentemente verso la zona playoff il vantaggio del primo tempo è un recupero da palla da parte di Chiarelli che serve in avanti verso il compagno squadra Le Grenzi il capitano serve centralmente per Gabriele Brandini Brandini di prima intenzione serve l'omonimo Daniele Brandini che è una giocata di fino d'esterno destro apre per Carrara arriva prepotentemente dalla destra il Soverese porta in vantaggio gli altosibini come abbiamo detto il pareggio della Brembilese arriva al sessantesimo un cross da dentro dalla destra dove c'è una conclusione da parte di Carminati la palla esce con un sinistro sporco che beffa il portiere Paganessi e quando tutto ormai fa pensare al pareggio è Carrara che ancora con un esterno destro apre per Gabriele Brandini ottimo inserimento del numero 11 palla dentro l'area piccola di rigore l'esto furbo e gol di rapida da parte di Quardì che è entrato nella ripresa e vittoria per la formazione del Sovere Zambaiti non Paganessi il portiere del Sovere è importante sta facendo molto bene questo portierino che sta associando Maglini e quando ti arrivava Paganessi non sai solo te non lo so e guarda che continuo ma io facilmente fra un paio di settimane magari lo vedrò al campo e gli dicono ciao Paganessi no no esatto e poi Guardi non è il Guardi ma Guardi è l'attaccante alla formazione del Sovere nesti importanti Guardi e Cortali per questo Sovere che non deve stare in classifica onestamente deve riciarrirla alla grande questa classifica se no c'è qualcosa che non va vedendo il parco giocatore posso farvela io una domanda perché voi seguite meglio la categoria è il Pianico che sta facendo di più di quanto è nelle sue corde o è il Sovere che sta facendo di meno tutte e due secondo me ma una sta facendo un po' di più nelle sue corde secondo me l'altra sta facendo un bel po' di meno e il più del Pianico chi è cos'è e il più e il meno del Sovere cos'è o chi è vi voglio dire i due mister ah no ho fatto la domanda secondo me il Pianico non sta facendo di più di quello che può secondo me sta facendo quello che può è una squadra veramente forte io l'ho vista solo una volta la vivo quest'anno così più forte del Sovere così più 14 punti no il Pianico sta facendo quello che deve secondo me è il Sovere che non sta facendo quello che deve perché perché fino adesso sta rendendo meno nelle ultime grazie ha vinto ieri nelle sei precedenti aveva vinto una volta il Sovere si ha avuto un calo nelle ultime però è sempre rimasto dietro nelle sei precedenti ha perso anche lo scontro diretto io ti dico non solo c'è un mister esperto Robby Badenghieri che è più pratico perché se tu guardi il Pianico è molto più pratico del Sovere dei gol subiti e segnati per me come parco giocatori sono importanti tutti voi come squadre e qua abbiamo un allenatore giovane e un po' e anche il fatto che un po' di fortuna ti gira bene il Pianico se ci rilasciamo al discorso mister quando tu vai a scegliere un mister giovane è qualcosa che devi concedergli è normale che la prima esperienza era a Endine dello scorso anno è chiaro che è la prima esperienza in una categoria come la prima è qualcosa che devi concedergli è normale che qualcosa possa sbagliare penso che devi metterlo in preventivo esatto e poi domenica saremo a seguire sopra San Paolo d'Argo finiamo con Pian Camuno Gandinese sentiamo mister Magioni anche il giocatore della Gandinese grazie a Gandino e poi andremo a pubblicità guardiamo il lato negativo il primo tempo perché il primo tempo loro con 4 tiri in porta potevano essere 4 a 1 che fondamentalmente è andata così secondo tempo ottimo la reazione anche perché dopo pochi minuti siamo rimasti senza il nostro giocatore di esperienza i giovani sono stati bravi hanno messo la cattiveria agonistica giusta soprattutto nel secondo tempo testa bassa voglia di recuperare il risultato purtroppo non è venuto in questi momenti dove a noi serve anche il punticino era male il nostro obiettivo continua ad essere quello abbiamo puntato sui giovani sappiamo che con questa nuova regola non ha sicuramente aiutato perché trovi squadra molto esperta hai visto anche oggi comunque nel primo tempo già si perdeva molto tempo gli ultimi 5 minuti quando abbiamo perso palla non siamo più riusciti a giocare continuiamo con il nostro obiettivo che è far crescere i giovani e che è quello di tenere a tutti i costi questa categoria sicuramente oggi c'è stata la determinazione però purtroppo le partite sono sempre di meno i punti sono sempre di meno abbiamo ancora 8 partite in casa dobbiamo cercare di fare più punti possibili almeno in casa nostra oggi purtroppo abbiamo perso una buona occasione per come si era messa la partita perché comunque il candinese era scomparso ormai negli ultimi minuti ma ci hanno fatto capire e hanno fatto capire ai giovani cos'è questa categoria perché comunque chiusi dietro salvataggi sulla linea grandi parate dal portiere però hanno portato a casa i tre punti sarà sicuramente determinante nel senso che comunque ci si allena qua qua si può giocare a calcio avete visto anche voi che sia da una parte che dall'altro il terreno di gioco ti permette di far quello cosa che è mancata forse nel giro d'andata nel giro d'andata purtroppo la squadra era decimata erano troppi troppi giocatori giovani messi assieme che torno a dire sono bravissimi però qualcosina in questo girone c'è bisogno di qualche giocatore di esperienza visto oggi Franzini dietro il nostro capitano che comunque è un 99 però un 99 con un passato già importante nonostante sia giovanissimo e il 96 che poi dopo 6 minuti ci ha lasciato sono giocatori che aiutano tantissimo i ragazzi quello è fondamentale io spero che diventi un fortino sarebbe veramente un peccato perdere questa categoria Daniel Nanni partita dura oggi avete sofferto fino alla fine sembrava in controllo però vi hanno fatto sudare questa vittoria i ragazzi del Pian Camuno partita soffertissima primo tempo abbiamo giocato bene meritavamo nel secondo ci hanno attaccato tutto il secondo tempo però ce la siamo portata via sono tre punti d'oro anche se giochiamo così però si vince sono sempre tre punti è stata una bella partita abbiamo primo tempo non abbiamo sofferto tanto il secondo tempo è tutto in difesa però abbiamo lottato bene e dobbiamo continuare a difendere così sono contento dove mi mette io gioco do tutto per la squadra e spero di dare anche tanto da adesso in poi e di dare tutto per la squadra sarà una partita difficile sarà come oggi è la prima sconfitta che abbiamo fatto all'andata lotteremo sperando di giocare meglio e cercheremo di portarvi a tre punti ritorniamo in diretta mentre l'Inter vince la Supercoppa battendo il Napoli per una rete a zero partita di alta vedi che Stefano è contento oggi adesso sono sereno sono sereno chissà è sereno solo quando vince poi ne fa finta di non sentire niente delle idee quando perde no non le veo non le veo perde pochissimo perde lo scudetto dai miseria poi chi segue il calcio magari non è di lei tantissimo importante la notizia dell'ultima ora quella scomparsa dei rombo di tuono Gigi Riva la scomparsa piuttosto importante per il calcio per lo sport nazionale per l'uomo che è stato per l'Italia non solo come calciatore ma anche come simbolo del calcio italiano poi dopo quando ha smesso di giocare a pallone torniamo col calcio direttantistico torniamo a apriamo magari il capitolo di eccellenza subito il girone B andremo a vedere un minuto di gol di Trevigliese-Tribiano e anche di della sorpresa Calozio-Corte che va a termine appello 3-2 questi sono i risultati vai Stefano anche qui le prime hanno subito tutte uno stop alcuni alcuni di questi stop sorprendenti per esempio il mappello col fagno di coda sconfitta 3-2 davvero una sconfitta clamorosa ovviamente le altre non ne approfittano perché il sondio perde con l'abrianza orginatese la Leone pareggia in casa con l'Arcellasco era sotto era sotto anche lei 1-2 alla fine ha rischiato addirittura di perdere e la Trevigliese a questo punto è definitivamente altra sconfitta e si stacca chiaro che in cima di fatto cambia poco se non anche lo fa l'enghese ha preso una scopola a soncino mica da ridere l'unica che ne approfitta l'alta abrianza che accorcia a questo punto a meno 5 dal mappello può dire ancora la sua anche per la lotta al vertice ecco mentre adesso abbiamo visto la classifica ovviamente bella sempre da seguire anche questa classifica partiamo adesso con l'immagine e il gol Paolo Carpenito l'ha messo valente giocatore importante lo fa l'enghese ha messo un altro punto importante eppure niente da fare tante volte dici non cambia nulla la Trevigliese ha messo gullite esatto la Trevigliese ha messo gullite gli è andata male allora qua vediamo il la Pagazzanese la Pagazzanese ha messo quello che era Treviglio esatto gullotta quindi Carozzi e corte verrebbe quasi da dire che certi equilibri a volte è bene non toccarli esatto perché sai un attaccante per quanto forte come valente cambia cambia ambiente però insomma giochi con dei compagni che non ti conoscono fanno un calcio diverso ha cambiato anche l'allenatore per carità quindi sicuramente questa squadra è destinata a venire fuori perché non oso pensare che il Carpenedolo non riesca a ripigliarsi certo sembra ormai tardi per poter puntare a certi traguardi perché nell'alta classifica ci sono tante squadre che stanno andando forte io parlo del girone C ma qui nel girone B invece è sorprendente vedere un Calozio corte che se non sbaglio aveva già regolato pareggiato col Sondrio aveva già rubato punti preso punti al Sondrio adesso ha regolato un'altra squadra importante come il Mapello è il segnale che il girone di ritorno è veramente un altro campionato e se pensi di come dire affidarti alle medesime dinamiche dell'andata rischi veramente di crollare miseramente di perdere tutti i tuoi obiettivi che ha giocato il cambio maglia a Sare Sare ha la forte costanza è tornato nel suo fortino è tornato a Calozio e fa gol è gol ieri importante al 94esimo poi è arrivata la vittoria ieri dal Calozio corte contro il Mapello che aveva recuperato da sotto 2 a 0 mentre qui siamo a Treviglio anche qua io ho visto un paio di giocatori del Tribiano davanti molto tosti molto rapidi veloci ho visto anche io delle belle cose esatto però vedo anche una difesa insomma abbastanza imbarazzante perché sono in 4 o 5 vedo che insomma fanno un po' fatica a volte i difensori il Tribiliese ha finito un'annata molto forte ma ha fatto tutto il giorno un'annata molto forte sinceramente come avevo detto anche prima di Natale con il nesto di Gullit pensavo che potesse lottare addirittura per il vertice e invece queste due sconfitte le hanno tagliate fuori poi mettere in maniera definitiva ringrazio ovviamente per le immagini Giampiero Salvi per quanto riguarda la partita fra Calorzio corte e Mapello da lui a seguire che ci ha fornito le immagini e anche Antonio Milanese per quanto riguarda Trevigliese e Tribiano Tribiano che sarà il prossimo avversario della Leone cercheremo una sera di avere anche il collegamento visto che appartiamo questi collegamenti con Zoom o con l'esterno proprio uno dei bomber per me il bomber più forte dell'eccellenza che è Mattia e buonseri per quanto riguarda è un po' distante dalla cifra dell'anno scorso però da quella dell'anno scorso ha già superato la doppia cifra non ha più quel ruolo lì magari l'anno scorso è arrivato a numeri ad oggi dice che è un po' cannoniere dice che è un po' cannoniere con il campionato visto che non è lui il capo cannoniere apriamo invece il girone C per quanto riguarda l'eccellenza qui abbiamo tanta roba poi di andare a vedere due servizi quello del Vertolese e poi Berizzolese Zarfo dove siamo andati io Paolo sabato a seguirli Vertolese c'era Stefano ieri un po' di immagini di tutte le altre partite ci sono arrivate le immagini grazie al buon Savi della Falco cercheremo di recuperare sono arrivate adesso cercheremo di farle e vedere questi sono i risultati Paolo beh tra i risultati che più fanno specie sicuramente il pareggio dell'Ospitaletto in casa della Pavonese Pavonese che domenica scorsa a Darfo è uscita con le ossa rotte già dopo un quarto d'ora perdeva 2-0 sembrava una squadra in grossa difficoltà invece ha tirato fuori gli artigli e ha fermato la corsa della capolista Ospitaletto per carità per l'Ospitaletto niente di che perché insomma sappiamo che questa è una squadra formidabile che andrà a vincere il campionato ha conservato comunque un ampio vantaggio sulle inseguitrici però per la Pavonese un segnale interessante vuol dire che ce la puoi fare domenica potrebbe approfittare anche della sfida tra Forza e Costanza e Falco magari che ne so se finisse con la vittoria della Falco la Pavonese potrebbe magari conquistare punti importanti non sottovaluterei neanche il pareggio che la Juvenes Pravalunghese ha ottenuto in casa contro il Rovato attenzione il Rovato è una squadra tra le più forti della categoria evidentemente la cura Mignani sta cominciando a funzionare certo il pareggio non ti porta molto lontano però riuscire a fermare la formazione del Rovato che ha giocatori veramente di di grande livello è un segnale importante in ottica play out e poi la Vertovese secondo miglior attacco del campionato seconda forza del campionato avanza a 3-4 gol a partita questa è la media delle ultime gare se non avesse perso con la Pavonese 4-5-6 partite fa avrebbe ulteriormente staccato le sue immediate inseguitrici quindi insomma è il segnale di un campionato vero di altissimo livello di altissimo livello se non sbaglio Stefano diceva nell'ultime 8 giornate 7 vittorie nelle ultime 9 ne ha vinte 8 di cui 5 consecutive l'unica sconfitta con la Pavonese allucinante perché era una Pavonese in grossa difficoltà e poi le ultime 3-1 a Casazza 4-1 a Ciliverg 5-2 con l'Oceana 3-1 a Yei tutte con almeno 2 gol di scarsa si deve spaventare il Darfo domenica dovremo partire sabato se non sbaglio magari chiedo un messaggio di conferma se potete farlo mandare sabato l'anticipo se non sbaglio Orciana a Juventus per la Unghese che magari riusciremo ad andare a seguire questa partita poi domenica ci sarà Darfo queste sono le immagini che arrivano ieri pronti via è andato a vantaggio il Cazzago sì pronti via è andato a vantaggio il Cazzago subito gol di Paderno ha approfittato di questa situazione di lì in poi match monotematico la Vertovese faceva la partita il Cazzago si chiudeva e ripartiva devo dire che nel primo tempo l'ha fatto bene nella formazione bresciana e ha concesso due o tre occasioni considerato il potenziale offensivo della Vertovese non è tantissimo e ogni tanto il contropiede riusciva a rendersi pericoloso nel secondo tempo invece non è più riuscito ad oppure resistenza la Vertovese ha fatto un 1-2 in tre minuti tra l'ottavo e il decimo l'ha ribaltata e poi a quel punto il Cazzago ha dovuto anche un po' sbilanciarsi rimessa la Vertovese ha avuto diverse occasioni per fare il tris alla fine l'ha fatto il Cazzago ha avuto una sola occasione ma di testa con Zambelli e poi il resto non siamo più reso pericoloso e poi vedremo il servizio magari chiedo a Felix prima di vedere tutti gli altri e immagini di altre partite perché poi avremo proprio il servizio sulla Vertovese Paolo ne parlavamo domenica c'è Darfo Vertovese partita importante la Vertovese facevamo i numeri un po' la difesa del Darfo l'attacco della Vertovese anche se poi Stefano certo mancheranno Granillo due giocatori importanti e Zanga due giocatori importanti per la Vertovese allora al Darfo mancherà sicuramente Bressan Soares il centrale è arrivato nel mercato invernale è stato espulso domenica secondo me in maniera un po' eccessiva dal direttore di gara però mancherà questo giocatore bisognerà capire come disporrà la difesa mister Cogliandro e credo che la Vertovese arrivi a Darfo forte diciamo di questo momento di forma straordinaria sono in fiducia giocano benissimo in casa e fuori hanno ribaltato una partita contro una squadra difficile quindi insomma i pronostici credo che vedano la Vertovese leggermente favorita per domenica prossima però io confido anche nella voglia del Darfo di riscattarsi dalla sconfitta maturata sabato addirittura in 10 contro 11 il Darfo ha giocato una buonissima partita io e Terra vamo a vederla quindi credo che domenica verrà fuori una gara di altissimo livello ecco mentre noi commentiamo ancora questo giro eccellenza adesso andiamo a verci tre partite una in fila l'altra Casazzola che batte il Carpenero 1 a 0 e altri risultati un gran bel risultato anche questo è un risultato grazie a un gol ancora di Berviario che si sta confermando praticamente un attaccante molto importante negli HL di eccellenza Zirone C vediamo queste tre partite vediamo lì e non andiamo avanti a commentare sia sulla Vertovese sia sul Darfo sia su questo campionato Vertovese certo prima Stefano grandi numeri però sei a meno 11 dall'ospitaletto è impressionante è impressionante è chiaro l'ospitaletto fa un altro campionato ma la Vertovese al secondo posto è comunque un risultato straordinario perché sappiamo perfettamente il livello del campionato è al di là degli estri terrestri dell'ospitaletto sono tante le squadre attrezzate qui in questo momento sicuramente è un cammino quello della squadra di Vertova che stupisce parlavamo prima del risultato del Casazza beh risultato importante perché Casazza ha finito incalando il giorno d'andata con due sconfitte soprattutto quella contro la Forza Costanza ha fatto rumore ha aperto il ritorno con un'altra sconfitta la vittoria di ieri lo rilancia e lo rimette in linea con il gran campionato che sta facendo fino a qui la Castellana non vinceva l'ottobre è tornata a vincere e sono tre punti pesanti la Forza Costanza in questo momento ha la forbice e anche se è fuori dagli ultimi due posti sarebbe retrocessa non farebbe play out ed è chiaro che se non cambia passo la forbice rischia davvero di beccarla e di non fare nemmeno il play out mi è arrivato un messaggio in cui mi dice l'arbitro Rossella ha fermato l'ospitaletto sul 2 a 2 l'arbitro è una signora stiamo vedendo non so stiamo vedendo le immagini ecco non è che possiamo non è che abbiamo visto tutta la partita però mi indicano che veramente ci sono stati anche degli errori arbitrali sì però attenzione va bene però tu sei l'ospitaletto loro sono la pavonese sì cioè ci sono mille punti di differenza cioè c'è una categoria di differenza io non posso pensare che l'arbitro possa avere cioè o ci si possa lamentare per l'arbitraggio che può avere inciso per carità ma tu sei l'ospitaletto e loro sono la pavonese concordo concordo la differenza di classifica deve farti superare anche gli errori arbitrali anche perché l'ospitaletto aveva parla di gioco anche domenica scorsa abbiamo visto i gol di Breviaio gran gol in scivolata in spaccata sì gran gol gran gol da attaccante che è tornato con l'attaccante in portante praticamente l'anno scorso ha fatto tanta panchina a Peledis che ha fatto 25 gol quest'anno ha tornato a titolare sembra quello della stezzanese con la differenza che adesso è anche in una categoria superiore perché questa qua è l'eccellenza insomma il livello è alto è un brutto scivolone però per il Carpenedolo ancora che non riesce a rimettersi in corsa lì a 22 sì perché hai cambiato hai cambiato allenatore hai fatto mercato insomma in provincia hanno parlato tutti di te e adesso ovviamente c'è chi gongola per i fallimenti di questa squadra di questa società secondo me questo non deve togliere i meriti al Casazza che è una squadra che comunque è molto rodata e fa battaglia ma credo che il Carpenedolo sia destinato a venire fuori a me Inverardi piace molto come allenatore Gisio Gabrielli è un bravissimo direttore sportivo ci vuole il tempo magari per mettere insieme un po' certi aspetti certi elementi certo sarà molto difficile rientrare nel giro importante e dare un senso alla stagione prima di armi partiremo con i servizi partiremo con il servizio della Vertovese che offre velocemente la classifica se ce l'ha sotto mano perché voglio vedere soprattutto lì il Carpenedolo ne verrà fuori il Darfo probabilmente ne uscirà chi resta dietro? la Pranghese con Mignani chi resta dietro? il rischio è che se Corte Franca e Forza Costanza non cambiano passo non fanno nemmeno i play-out ma qua secondo me ci sarà un forbicione spaventoso il rischio c'è forse ci sarà un play-out forse a quel punto lì ci sono secondo me 5-6 squadre che possono ancora rimanere coinvolte dal Casazza in giù secondo me può accadere di tutto però se anche il Corte Franca non si tira fuori Darfo secondo me esce il Carpenedolo pure la Prada Lunghese quindi credo che attualmente Corte Franca e Forza Costanza debbano mettersi in testa di Gallo parla un attimino altrimenti rischiano la forbice ma anche in senso Cazzago quota 28 non deve temere nulla la partenza di Capitanio che insomma si sta sentendo magari non è quello il motivo magari è coinciso con la svolta legata alla sosta invernale però è una squadra che non c'entra niente con quelle dietro non avrà secondo me e occhio alla Castellana perché è vero che ha vinto ieri si è ripresa però si è vero però Paolo non vinceva dalla sesta di campionato e ha vinto contro uno scontro diretto una forza di costanza di difficoltà andiamo a vederci il servizio allora come la Vertovese ha vinto contro il Cazzago Bornato a servizio di Stefano con le interviste nella seconda di ritorno del girone C di eccellenza la Vertovese vince 3 a 1 contro il Cazzago Bornato che continua a volare i seriani raggiungono la quinta vittoria consecutiva ottava successo nelle ultime nove partite oggi dopo essere atti sotto nel primo tempo con il gol di Paderno l'hanno ribaltata nella ripresa prima l'incronata di Granillo poi il rigore di Morosini alla fine anche l'incronata di Zenoni vittoria importantissima che fa rimanere al secondo posto la Vertovese Cazzago Bornato invece raccoglie la seconda sconfitta consecutiva Cazzago Bornato che nel secondo tempo non è riuscito oppure resistenza alla qualità dei seriani Cazzago Bornato che resta comunque in linea con l'obiettivo stagionale che è quello di mantenere la categoria Siamo con Alessandro Granillo gol assist rigore procurato oggi grande prestazione da parte tua Sì vabbè da parte mia ma soprattutto da parte della squadra oggi bisogna fare complimenti davvero a tutta la squadra a chi è subentrato è una partita che sentivamo molto perché per noi era molto importante restare al secondo posto e nulla adesso si pensa a domenica Quinta vittoria di fila 8 nelle ultime 9 sta andando fortissimo Sì sì il nostro obiettivo ogni domenica è di scendere in campo per vincere ce lo siamo detti nello spogliatoio dobbiamo provare ad arrivare più in alto possibile e non abbiamo intenzione di fermarci Domenica sarai squalificato perché eri in di fila oggi se tu hai munito i tuoi compagni cercheranno comunque di non far sentire la tua mancanza Sì siamo squalificati io e Gio Zanga però sicuramente chi entrerà al nostro posto dimostrerà che siamo tutti allo stesso livello perché la squadra è forte e siamo pronti a domenica Mister Sebastiani ottimo primo tempo poi nella ripresa avete faticato a contenere la qualità della Vertovese Sì abbiamo avuto un blackout preoccupante nonostante il loro cambio di modulo nel secondo tempo inspiegabilmente abbiamo preso due gol abbastanza evitabili uno in rigore uno da una palla laterale non abbiamo seguito l'avversario in un due contro due abbiamo preso due gol che ci hanno mozzato le gambe e abbiamo smesso di attaccare abbiamo smesso di rimuoverci abbiamo smesso di giocare la cosa principale è quella e mi fa molto arrabbiare questa sconfitta non perché non sia meritata anzi meritata ma per come i miei giocatori abbiano affrontato questo secondo tempo non esiste affrontare una partita così non ho mai visto un atteggiamento del genere spero che sia l'ultima volta arrivati due sconfitte di fila siete comunque in linea con gli obiettivi sezionali dove lavorerai in settimana per ritrovare la convinzione che le è mancata oggi bisogna lavorare sulla testa perché le gambe vanno ma la testa no se c'è qualcuno che pensa che abbiamo già fatto il nostro ha completamente sbagliato anche se avessimo vinto questa partita qua non sarei stato comunque contento assolutamente e Sebastiani onestissimo era fribondo ieri a fine partita era veramente arrabbiato con i suoi si è visto ribaltato nel suo tempo è vero che la forza della Vertovese in questo momento è impressionante e l'assenza di granillo secondo me ad Arfo sarà pesante per la Vertovese con la fantasia quel giocatore che adesso è in grande forma beh devo dire ieri devastante ha pareggiato seppurato di gol ha fatto l'assist la cosa che ho notato in crescendo dalla Vertovese è che prima andava forte con le squadre che giocavano a viso aperto con le squadre che si chiudevano faceva più fatica a trovare gli spazi adesso anche con le squadre che si chiudono riesce comunque a trovare la giocata riesce comunque a costruire occasioni e questo è uno step in avanti importante e ha trovato anche il gol di Morosini un giocatore importante che è stato inserito in questo mercato ed è stato importante per la Vertovese gol su calcio e di rigore per il centro capista play andiamo a verci invece a Benedizio Lese Darfo questo 2-0 la Benedizio Lese sul Darfo una partita vediamolo sentiamo anche le interviste il Darfo molto meglio addirittura quando è rimasto in inferiorità domenica sì primo tempo non bene primo tempo eravamo un po' troppo compassati abbiamo perso un sacco di seconde palle non arrivevamo mai secondo tempo è iniziato bene è bruciato bene sembrava che stesse girando poi dopo c'è stato l'episodio del rigore non dato a noi di conseguenza il rigore dato a loro con l'espulsione e dopo anche l'ultima mezz'ora non posso dire niente ai ragazzi l'hanno fatto bene probabilmente meritevamo qualcosa in più secondo me perché abbiamo provato a giocare siamo stati un po' non molto cattivi in area di rigore perché le situazioni ce le abbiamo avute però va bene sì però purtroppo l'ho vista così e quindi certo che dispiace insomma io certe situazioni sono abbastanza facili insomma da leggere però è andata così e come esce il Darfo secondo lei al di là della sconfitta quest'oggi su un campo comunque difficile no i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare abbiamo fatto fatica a giocare su questo campo oggi noi perché abbiamo fatto fatica a tenere giù la palla a cercare delle soluzioni perché non era molto adatto per giocare palla a terra era più un campo da battaglia e in questo momento ecco magari ci manca quella pelle da cambiare pelle in certe partite bisogna essere magari un bacchettino più brutti però bene la strada è lunga il nostro obiettivo è la salvezza ci tenevamo oggi ad andare avanti con i risultati perché so che stanno facendo bene però è andata così purtroppo però oggi non posso dire niente ragazzi siamo una squadra anche molto fisica in questo momento perché abbiamo molti centimetri e molti chili e quindi probabilmente la nostra qualità in questo momento è più cercare di mantenere il dominio della palla del gioco piuttosto che magari di partire in velocità abbiamo giocatori importanti i galelli non stanno benissimo perché le prese con un problema un piccolo fastidio di inizio di pubalgia quindi speriamo perché noi è importante di tre ed avanti sono giocatori importanti che quando stanno bene insomma creano però questa è la rosa sono contento di quello che abbiamo adesso abbiamo profondità e quindi va bene così è già munito poi già Bressan era fuori rischiavamo qualcosina aveva speso molto e mi serviva un giocatore fresco lì in quella posizione che tenesse la squadra un pochettino più alta non è stato l'approccio migliore di Cotti insomma però glielo ho detto anche lui perché l'obiettivo era altro l'italiani continua il momento positivo della vedizolesa vittoria oggi importante ancora sulle Darfo senza subire gol un po' come era stato con il Carzago dunque momento buono la classifica continua a scalare sì sì noi sappiamo qual è il nostro campionato sappiamo che tipo di partita dobbiamo fare al di là dell'avversario quindi oggi è stata una gran partita sì sì questo è sicuro ma il Darfo sapendo che il Darfo è una squadra che non merita la classifica è una grande allenatore e risalgono sicuramente quindi sapevamo che dovevamo essere aggressivi andare a prendere gli alti non farli giocare non farli pensare dopo chiaro che le partite sono sempre gli episodi però credo che insomma l'abbiamo meritato qui è chiaro che sul nostro campo soprattutto se butti la palla e vai a fare le mischie qualcosa rischi però di parata dal mio portiere non l'ho vista tiri in porta non l'abbiamo preso quindi tranne qualche calcio d'angolo punizione ma insomma in qualche occasione l'abbiamo avuto e credo che il risultato sia giusto ma qua ogni domenica non sai mai cioè sai sempre com'è perché è sempre uguale è una battaglia tutte le domeniche credo che sia veramente uno dei campionati più duri degli ultimi anni e non c'è una squadra una partita facile non c'è una partita che puoi allentare se abbassi appena appena abbiamo visto oggi abbassi appena appena il ritmo te perdi in quella categoria qua e quest'anno è peggio peggio ancora dagli altri anni sono levata in extremis le immagini di Falco scantrosciate Felix adesso ce le manda in onda noi andiamo a commentare un po' le parole italiane dove vittoria è meritata per me ma oddio credo che la belizzolese abbia complessivamente meritato nel complesso perché ha giocato con l'atteggiamento di Falco Bertoli non ha fatto una parata io parlo comunque di atteggiamento sì è vero giocare sul campo di Belizzole non è facile Scanzo queste sono le immagini di Scanzo Falco però ripeto io condivido con Tagliani l'idea che la sua squadra abbia adottato l'atteggiamento migliore è scesa in campo più determinata certo fare la partita e vincerla facilmente col Darfo di questi tempi non esiste è un Darfo molto più quadrato che però è stato troppo rinunciatario il mister del Darfo ha parlato di squadra compassata ha ragione io avevo l'impressione che la belizzolese avesse qualcosa in più non è riuscita a concretizzarlo se non sfruttando appunto quell'autogol di Fusor Bassini da calcio d'angolo nel secondo tempo paradossalmente il Darfo in dieci uomini mi è piaciuto di più ha trovato più coraggio ha cambiato pelle come diceva l'allenatore cosa che la squadra dovrebbe imparare a fare e lì avrebbe meritato il pareggio indubbiamente però poi quando subisci il secondo gol noi l'abbiamo un po' sottovalutato ebbè il novantesimo però tu un gol del genere non puoi prenderlo il secondo gol è una roba che non si può vedere mister Cogliandro ha anche fatto un errore lo ha dichiarato mettere cotto i cometti al posto di Giorgi è stata una scelta che non ha pagato e poi credo credo che questa sconfitta al Darfo possa far bene perché credo che permetterà alla squadra di affrontare la Vertovese con un po' più di rabbia mentre qui vediamo lo scanzo andare in gol grazie a Giudici per le immagini ovviamente e anche alla Falco grazie a Salvi lo saluto volentieri che c'è arrivato poi anche un messaggio in cui chiamavano causa tre calci di rigore eccetera eccetera in questa partita parlando di questo poi andiamo sulla Falco rigore non dato il Darfo espulsione l'arbitraggio è stato veramente pessimo un direttore di gara pessimo che ha sbagliato non soltanto in un episodio chiave come quello perché era un rigore clamoroso quello sull'attaccante nero verde mi è sembrato molto severa anche l'espulsione di Bressan Suarez perché francamente Giorgi secondo me poteva raggiungerlo oppure il portiere poteva magari addirittura uscire sul pallone mi è sembrato molto un arbitraggio che non ha minimamente convinto peccato perché domenica contro la Vertovese il Darfo dovrà rinunciare a questo centrale e quindi probabilmente giocherà linea al centro della difesa non credo che Cotti Cometti verrà schierato dopo la brutta prestazione di sabato in ogni caso è un'assenza che peserà sui nero verdi dunque tre assenze piuttosto pesanti Stefano cosa stiamo vedendo qua a Falco tre calci di rigore eccetera una Falco che ovvio adesso il morale è difficile andare a allenarsi e andare in campo con questi punti esattamente così quando hai sei punti a gennaio e vedi le altre scappare nettamente più avanti è difficile allenarsi è difficile trovare le motivazioni poi degli episodi ieri lo scanzo penso che abbia creato tantissimo abbia strameritato di vincere chiaro che in questo momento le forze in campo tra le due squadre sono completamente diverse lo scanzo è là in lotta per i playoff e la Falco deve riuscire a rimanere compatta e onorare l'impegno fino alla fine è chiaro che pensare alla salvezza in questo momento è totalmente utopistico perché la squadra ha perso anche elementi importanti nel mercato invernale adesso davvero bisogna cercare di finire la stradola il meglio possibile e si va a Martinengo in uno scontro diretto tra due formazioni che sono in difficoltà la Falco ovviamente più in difficoltà rispetto alla Forza Costanza ma tutte e due che magari non lo so non è così scontato secondo me se la Falco può provare qualche colpo da qua a fine dell'anno quello a Martinengo è una delle occasioni più importanti basta vedere la classifica insomma la Forza Costanza è soltanto due posti avanti è chiaro però che anche per la Forza Costanza sarà una partita importantissima beh è stato chiamato a causa qua il direttore di gara però lo Scanzo ha creato tantissimo ha creato tantissimo è ovvio che lo Scanzo vuole risalire la classifica vede la Vertovese prima delle Bergamasche in questo momento lo Scanzo deve stare lì e anche lei fortuna del Castiglione ha clamorosamente pareggiato altrimenti beh lo Scanzo resta lì comunque a ridosso del playoff esatto avevamo anche le immagini ovviamente di Castiglione uno è anche del Ciliverge ritroese grazie a chi ci manda le immagini ma purtroppo siamo in chiusura vabbè questa volta rubiamo un po' sulle immagini perché sono arrivate poi in estremis le immagini di Falco Scanzo lo sciate derby Bergamasco rinanziamo ancora una volta a Sali io vabbè vi ringrazio perché siamo veramente in chiusura grazie a tutti quelli che hanno mandato i messaggi noi adesso cerchiamo di andare sabato su qualche campo e poi essere pronti la domenica e lunedì torneremo in studio ancora a commentare tanto ovviamente il focus sarà su questo Darfo Vertovese d'eccellenza partita da seguire con un occhio particolare grazie Paolo ciao Arnaldo grazie buonasera a tutti grazie a Stefano grazie a voi ovviamente grazie ai nostri sponsor che permettono di andare in onda a chi ha lavorato dietro le quinte a Felix e ovviamente a tutti quelli che hanno portato contributi dai salvi milanesi Mologna insomma sono tantissimi le ringrazio loro lo sanno che le ringrazio vivamente perché sono loro insieme a noi che partessimo ne fanno questa trasmissione appuntamento a lunedì prossimo con qualche minuto di ritardo rispetto alle 20.10 ma torna ancora al calcio di casa nostra buona serata grazie a tutti